Buon sabato a tutti ragazzi e ragazze ed eccoci arrivati con le anticipazioni di Daydreamer Leali del Sogno. Oggi voglio narrarvi la puntata che andremo a vedere domani 27 settembre perché Mediaset, come già vi aveva annunciato in un mio video, manda anche la puntata nel weekend, quindi sabato e domenica ci aspetto un doppio appuntamento con Daydreamer. Quindi sarà in onda con una puntata speciale, Jeanne verrà paparazzato, ma vediamo nei dettagli che cosa andremo a vedere domani pomeriggio su Canale 5 alle 14.45 circa. Nella puntata odierna Niat e Macbeth rimarranno molto delusi dal comportamento della loro figlia Sanem perché scopriranno attraverso i giornali la relazione tra sua figlia e il suo capo. Una notizia che vi anticipo non piacerà per nulla a Macbeth, così nella puntata di domani 27 settembre Jeanne e Sanem correranno ai ripari e saranno costretti così a difendersi dopo che la perfida Eileen ha venduto a una nota intervista di gossip le loro foto che ritraevano Sanem e Jeanne in anteggiamenti intimi. Così la coppia farà causa al giornale che ha pubblicato la notizia del loro fidanzamento. I due infatti spiegheranno alla mamma di Sanem che quelle foto sono una montatura e tra di loro non esiste nessuna relazione. Macbeth finirà così a credere alle parole della figlia, ma quanto duderà tutta questa bugia? Ci sarà un grande scoop proprio nella puntata di domani, domenica 27 settembre. Il noto fotografo infatti verrà nuovamente paparazzato e fotografato, ma questa volta sarà in compagnia di Jeida e i loro atteggiamenti verranno così equivocati come intimi e le foto faranno il giro di Istanbul. Ovviamente ragazzi aspettatevi una reazione da parte di Sanem che mi anticipo non sarà paziente, ma questo lo scopriremo poi nei prossimi video. Io come sempre vi invito a seguirmi, lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti gli altri prossimi video. A presto da Angela da Tutto dal Web.